Eh, non potevo non condividere con te Ricky questo momento Mamma mia, ma il bello che l'ho detto, vabbè che io lo dico sempre Ormai sapevo che mi mancava poco l'Herlum e quindi ho detto lo dico sempre, no? Il fatto che... Oh, finalmente l'Herlum, finalmente l'Herlum, finalmente l'Herlum Ma questa volta, mamma mia Raga, è spettacolare dopo dieci giorni vedere una mappa che non sia forse giovecchia Sì, era un eccolo, era, esatto Mamma Easy content Easy, easy content Chat, vi ricordo che i server privati li faremo alle 21.30 il sabato sera Ok, non più il venerdì ma il sabato Mamma mia Manca il fiato, vi giuro Giapizza, voglio mettere nei punti canale la possibilità di far cambiare sedia Cambia sedia Oh, madonna Eh, comunque devi alzare il VIP Perché devo alzare il VIP, dici? Eh, perché 10.000 è troppo poco Vediamo che dice Ricky Airland calcolata, non abbiate per ora Prendiamo questa e atterriamo qua C'è una viola C'è una vicella Sì, che atterra qua sul coso poi Ok Mi piace, ho l'arma di Ringsprime M-lock col caricatore d'oro Tiè, compa Mi impingio il longbow Uno E due Aspetta qua Eh, quella è la mia No, mi tengo il longbow Oh no, longbow e sentinels Giù pizza Sì, senti nella spada Spadina, ok Il 99 me lo piglio volentierissimo Sì, sì, atterra qua sotto C'è pure il caricatore oro Molto easy, molto easy Mi butto Bella Oh cazzo, c'è uno qua Ma c'è gente Eh, quasi crack Craccato, craccato Non ho colpi pesanti Colpi pesanti Qua dentro Peccato lo smirato Se no lo knockavo 126 bianco lì Bella Knock Scopra lì No, adesso Dove è andato il cadavere? Non trovo il cadavere, raga Di quello che ho knockato Sarà scappando Sotto di me qua sono Potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte Ma perché due Uno, uno L'altro non sa dove Guarda qua All'altro è da dietro 105 105 è qua Io mi ammazzo questo Ah, l'ho trovato Eh ma occhio che È da me il tizio È arrivato da te Dammi una mano Già pizza Che questo è strano Aspetta No, no, no Non ho niente Per sparire lontano Non ho knockato Lo confermate Torniamo indietro, raga Eh, sì Non c'è un cazzo Sì, non ho Non ho 60 Andiamo via E via Siamo presi due chili Via arriva un elster Non c'ho leggere io Dipendiamo totalmente da te Pizza Leggere è pieno in giro Non ho netto Molto, molto bene Non sono contento per te, Ricky No Dai Ma c'è gente Sì, mi sa di sì Lascio qua 17 pesanti Lui è la madonna Oh, no, no, no Dov'è? Qua sopra La navicella Metto zip in per andare al coso, raga Ci siete Quando Quando Ma quanti sono sulla navicella? Scusami Ne ho visto solo uno Il pattini Non so gli altri Però Ma mi sa che è il compagno Di quello che abbiamo knockato Vieni Cioè Sparono e scappano Io non capisco Vabbè Comunque Andiamo a riuscire Però Imbandiamo Va bene Allora Perché uno piglia zipline Verso di noi Ah È andato È tornato indietro Sono qua Sono messi malissimo Eh, non ho un mierino, cazzo 16 blu, uno lì 105 HS blu qua Non c'è un cazzo di mierino Uno deve ancora passare Se ci siete lo laseriamo L'altro è L'altro è ancora qua però Eccolo 88 crack No no Aspetta un attimo Lo sgrano Provo a sgranare 23 blu 16 blu Knock 132 Questo qua è qua Il cavallo Sì Allora Sai Arriba pure Della gente da dietro Pisi 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 Fuckin Squeezey Andiamo Andiamo Qua saremo in mezzo A due team Alla duo E al team del Oh fight Ah io provo a salire Avete una cella Che mi carico la bestia Eh ne ho due Attientate Lì mi sa Dove stanno Lì al pink giallo Tipo alla casa Ah Ho visto uno scappo Poi c'è quell'altro 16-22 Mazzo Fanculo Flaccato Vai Oh uno se buti allo giù Sto andando qua su questi eh Che cazzo sono andate Sono andate via Sì Davanti a me Che cazzo Sempre davanti a me Ancora flash vero Uh 66 flash Ciao uno Sì no no Lo scavolchiamo Con me Davanti a me Sempre Continuo a correre 4 secondi al grab ball Della vita Continuano a correre No da dietro Mi sparano Mi apprezzo Non c'ho pure io Non c'ho pure io Non c'ho guendo Guardate batteri o cose Roba Eh tipo Posso troppare Con anch'io Stanno dentro No 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 più Faccio batteri Ok abbiamo sempre Il team dietro Sono due Dobbiamo fare in fretta No sono Straccata una Massacrate massacrate Sono arrivati Sono arrivati Sono arrivati Parto confermato Prendi il top Tetto Prendi il top Sto rendendo Straccata la bungalore Sul tetto Ok vado dentro Vado dentro Avete batteri pure Io non c'ho un cazzo Metto mark Metto mark Metto mark Non ho niente Qua 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 batteri Eh no la posso prendere Prendevo il mercato C'ho batteri No no La porta Te la tengo Te la tengo Li avevo fatti un bel male Un bel po' di male No Reno vieni qua dentro Dai ma Però spara con me Eh stavo restando qua Stavo restando qua dentro Oddio bono Che palle Devono devono Mantarmi Ma che cazzo Eh la ulti del lato C'è i seringhi Eh te ne posso troppare solo Che palle madonna Buon che stocco Buon atto Eh fracca Ah meno 23 Minchia Abbiamo fatto meno 3 Top 15 Che era? Mi avevo fatto Top 11 ma Bonus eliminazioni 7 Wow 7 kill 7 punti Molto bene Nelle patch c'era scritto Che ora danno il bonus L'eliminazione L'ho aumentato ancora Bene Ok mi credete che è fatico Trovare loot Nonostante ci abbiamo l'oba Non riesco tipo a trovare Pure Eh non c'è Un scanion È una merda Potrebbero medikit Pure piccole C'è la gente qua A school Prendi il VIP Molto bene Molto bene Tu riscattalo Che io A fine game Te lo do Va bene E di chi l'ha riscattato Poco fa In chi anche Qua z è contro 6 Qua davanti a me Vero verde Braccato uno Bianco E uno è viola 44 bianco Andiamo verso 6 Proverino qui dentro Volano Volano Forse arriva Uno di qua Sì Arriva la bestia Raga questi hanno preso danno di safe Io pusherei subito Sì 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 Va bene Sono ancora dentro safe Ho messo pad Bianco 22 bianco Qua sotto E qualche Qua a sinistra Mi troppo 42 Viola Guarda che c'è uno qua sinistra Caccato uno D'altro da me Fatto Arrivo Ho fatto un altro Un balone dietro Balone dietro Oh cazzo La sua bravura No Ho chiuso a pizza Non potete ammazzare Sto scendendo Faccio batteri Questi ci zonano Dobbiamo tornare indietro Dove eravamo prima Sì Sì Arrivo 54 secondi Devo andare Ma avete balone per caso? No No 15 squadre Forse ci conviene passare da sotto Ragazzi No Becchiamo questi qua C'era un po' nei coglioni Passiamo da sotto Via Sono belli Sti quantoni Ragazzi Cioè Ma parliamone Questo è un frigo Oh yeah Scusate No Non credo faccio così Pathfinder Cento pass Se vuoi? No Per caso avete una bomba a mano di questo? No No bombe a mano e carezza scusami ora ogni volta lo so ti traumatizzano non è mio non è mio volere ecco bella dove va un culo io sì effettivamente ruoterei da lì raga che dite se facciamo in tempo ma c'è gente craccata 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 12 flash a 1 di vita balla vabbè da qui abbiamo il top effettivamente vediamo dove chiude ah vula dove chiude si girerei da destra raga e me ne andrei a coso io ad acquitrini voglio dare tipo a pigliare questa casetta sì esatto era il mio questo coso che è scoppiato ciao alex si ranka ranchettina ranchettina e guantoni hai visto eri in life quando 22 abbiamo craccato 1 metto la zippa in su sto coso raga ecco lì stanno andati nel shock noi da sotto dalle case possono passare oppure passiamo da lì ma andiamo ad acquitrini ho anche volerò davanti 6 3 15 secondi non sbrigarci si abbiamo 10 secondi odio dirlo ma dobbiamo lasciar perdere il bottino e andare non lo so io non avrei perso il zoom oh craftano craccato possiamo prendere sta casa e holdarly si si craftano comunque si ma prendi safe però è ovvio sono già qui 158 bungalore 158 viola a 50 hp la bunga no cazzo ora non ci credo faccio batteria sono dentro io anch'io dentro ok sono sotto di noi l'ora mi sa no finestra c'è di qua da foto no 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 c'è uno non c'è uno non c'è uno il parlato qui sotto di te non ci credo ecco ok io sono sopra resta bellissimo arrivo su arrivo arrivo resta subito già pizza l'ho confermato mi sto fullando mi sto fullando eh tutto market buono market faccio medica c'è uno c'è ancora gente molto bene sento gente sulla destra la show energy nade ce ne sono qui dentro oh no 66 viola di fronte a me si li vedo qua dentro 23 viola occhio che ti spara pure l'altro team questa casa è in safe raga la possiamo prendere easy si si infatti guardatemi guardatemi no io non lo ho visto se ti toglie no c'è gente già che sta prendendo questa casa questa quasi si ma c'è gente che si sta avvicinando qui dai sotto di me un solo un solo un solo un solo fatto 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 ok la casa ce l'abbiamo quale ah di là si è questo qua questa qua ah come arrivo da voi torna in casa torna in casa dietro aspetta ti metto a zip e ti vuoi subito tieni aspetta si 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 guarda questi qua questo qua lo ho demolito i uomini sono qua sopra che è successo in chat chi è che ha regalato la salvator qua c'è gente mi sa che stava sparando qualcuno lì non so se è un altro solo sono soli si ma se ne saranno andati perchè ora devono cross a open ma questa casetta qua di fuori ok allora aspetta un attimo mi stanno sul cazzo troppo questi qua a destra questa casa da te che ecco è rossa quella eh quello che volevo pigliare io era era quella che volevo piglia io che mi sei come questi craccata una bruciamoli l'ultima vendita o le pesce a rosa mi dirò mi dirò mi dirò felix li busciamo no dobbiamo busciare forza questi vogliamo è l'unico o 55 euro 1 fanno che vogliamo busciare ma non abbiamo le ulti non abbiamo neanche un bordello avvicinarci e tiriamo su questi quanti diamo su questi quanti da me prendo il top io io sono sul top del tetto tutta posta guarda come ragione e cazzo quelli mannaggia la madonna per i dopo chi la sudo dentro no 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 un altro dentro mi sto facendo batteri ma io sono bravissima un attimo un attimo l'altro team che a destra 22 secondi gente sotto di noi dietro da dove cazzo usciamo dobbiamo ammazzare queste si 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 sotto di noi sotto di noi sotto di noi da me 1 1 1 horizon knock 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 qua da me è safe qua da me è completamente safe completamente safe da me faccio battery ragazzi guarda me è totalmente safe ce l'ha fatto arrivo non riesco ad arrivare hai un phoenix giopizza ai market spostati aspetta spostati che sono nel schermetto mi servono batteri batteri presto ci sono 17 batteri nel market lasciate due lo swap è pieno qui mi hanno smorgato mi avanzo qua sulla sinistra ragazzi allora a sinistra ci sono due persi due ragazzi questi cosa avanzati ok buono il muro prendo raga albero safe albero safe ok ok no c'è uno che c'è solo uno che mi spavano a quello di fronte a prendere la testa la casa riscola davanti a noi l'ulto 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 titolato quando si parla cadere il muro del macello 100 100 100 c'è la verona 192 ho fatto il bagallo ha fatto 1 parte 2 fatte 2 mancano questi due qui dentro 50 la rosso sono 3 team ancora sono 3 team sono 3 team sono 3 team oh zip 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 sopra oh scende uno qua che cazzo sta facendo quello è caduto è caduto è caduto figa e gli altri devi far battere li buscio ok 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 gli ho fatto 60 oh ci siete iniziato ho detto una torta ho fatto 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 dov'è? no dai prendendo distrutta distrutta bella bella ok let's go e i guantoni li mostriamo vai giopizza bacia a terra che ho fatto 231 e 230 un altro avevi fatto la stessa cosa di prima siamo in pieno fight ti metti a rezzare e mi lasci tu mi devi dire il senso che poi resti nico e vado un occhio sempre poi la sei cioè per fortuna per fortuna quei due erano mongoli due vorossi si sono fatti one clipare per fortuna easy content mi ha partito mi ha successo tante cose vero vero ciao giopizza grazie mille per i game saluto ciao 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 bello giopizza prossima volta vengo ad aiutarti Rino no ma te lo dico allora quando puoi restare subito te lo dico pure io stesso ma là in pieno foco ne ha noccato uno cioè meno male che poi ma meno male che poi gli altri pure non ti hanno piccato meno male meno male è andata bene beh ciao a tutti ciao giopizza bella giopizza 323 punti a me come al solito di meno però a me me ne ha date 245 non c'è un cazzo da fare 245 anzi anzi che mi ha dato 100 in meno mi hanno regalato una sub Ricky scusami che te l'ho scammata grazie mille per la sub regalo a Dora grazie 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 grazie